Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip, Alex Belli, Brooke, il padre di Belen e altri nel cast Quali saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 2018? Fervono i preparativi per la terza edizione del Grande Fratello Vip, in partenza tra la fine di settembre e linizio di ottobre Chi saranno i nuovi concorrenti del reality show condotto da Ilari Blasi e Alfonso Signorini? In questi giorni si stanno tenendo i vari casting e, secondo quanto scrive Novella 2000, potrebbero entrare nella casa più spiata dItalia alcuni ex tronisti di uomini e donne, attori e cantanti Il giornale diretto da Roberto Alessi parla della possibilità di vedere in qualità di diaffiniglia i tanti Andrea Cerioli e Luca Speracchi. Ma anche Alex Belli e Caterine Kelly Lang, conosciuta i più come Brooke di Beautiful Ma in lizza c'è pure Giovanni Ciacci, che a quanto pare ha lasciato detto fatto, e Donatella rettore. Spazio poi a Iva Zanicchi, Gustavolo Di Riguez, padre di Belen, e Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello L'ex bagnina, oggi impiegata come cassiera in un supermercato, doveva ritornare nella quindicesima edizione del programma, l'ultima edizione NIP condotta da Barbara D'Urso. Ma all'ultimo, sembra per volere della conduttrice, è saltato tutto Mancava solo la firma sul contratto, ha assicurato Cristina. Avrà la sua rivincita con la versione VIP? Ma non è finito qui perché altri nomi sarebbero in ballo per il Grande Fratello VIP 3. Concorrenti GF VIP 2018. Gli altri probabili concorrenti del Grande Fratello VIP. Secondo altre fonti, sarebbero in lizza per entrare nella casa del Grande Fratello VIP 2018 pure Silvia Provedi, cantante delle Donatella e attuale fidanzata di Fabrizio Corona, e Nina Morinca. Ma pure Francesco Monte, Claudio Sona e Mercedes Enger. Qualcuno ha fatto anche i nomi di Emanuela Tittocchia e Massimiliano Caroletti, produttore e marito di Eva Enger. Non ci sarà invece Aida Nizar, la spagnola ha fatto sapere su Instagram di aver rifiutato la proposta. .